Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima partita di Rainbow Oggi con l'operatore nuovo Ecco, in difesa Ed è da tantissimo tempo che non mi capita di iniziare una partita in difesa Hanno cambiato chiaramente piccoli accorgimenti Tipo adesso anche il tasto quadrato per mettere i muri è diverso Anche quando si aspetta ragazzi di iniziare è completamente diverso Soprattutto adesso dove c'è il punteggio Ci vedono le due spade di attacco e la torre di difesa Hanno fatto piccole raga migliorie ma secondo me È tanta roba, tanta tanta roba Ma facciamo così Facciamo così anche E adesso Ah non si può sollevare Va solo sotto E se schiaccio così ritorna a me Se schiaccio R1 torno con il drone Schiaccio la X Si attacca al soffitto E in basso a destra vedete che ho tre razzi E l'infinito Questo cosa vuol dire? Che si ricaricano all'infinito i tre razzi Noi rischiacciamo giù Ok Olè Dardo Vedete? Che tipo si stordisce il tipo Uno se lo attacca qua E questi non fanno nulla A parte che il tipo è morto Però tipo E' fatto apposta Per queste cose qua Adesso con calma Con calma proprio no Non l'ho nemmeno centrato una volta Ma com'è possibile? E quello stava mirando da quella Ma come cavolo è possibile? E il bello è che questa poi rimane una telecamera Bellissimo Raga queste qui sono le dieci partite Che si devono fare Per vedere appunto In che grado si andrà in lega Qua in classificata Quello è morto con il Capcan Tipo Vabbè Rip al primo rap Uh eccolo Ce l'hai dietro Eccolo Bravo Ce l'hai sopra Eh però Qua l'eco Funziona Attenzione Attenzione Sulla destra Allora Qua non l'ho visto Sa che sei da quella Attenzione Eccolo No 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 Ed eccoci qui Belli Tranquilli Carichiamo Bello Questo qui Non vorrei dire una cavolata Guarda quanto Corre Indemoniata Ibana Questo qui non è il fucile Che ha anche Buck Non vorrei dire una cavolata Però Guarda che Che strano Che è Allora Occhio che lì Non passa nessuno Controlliamo Guarda c'è Josh Che va avanti Ehi Ehi Cosa volevi La tua posizione è stata Ma dai Caveira Rica Rica Dove cavolo è? Ricarico Lontani dall'esplosione Maledetto E adesso Ah no, poi basta che schiacciassi R1 Che pollo Mamma mia, tanta roba BANZAI Eh, cavolo Round 2 vinto Non me ne ero accorto Questi ragazzi sanno il fatto loro Vedete, vi mettono le trappole giuste Sempre qua nel casino Sempre con eco Ma questa volta col fucilazzo A pompa Allora, questa volta Ti piazzo qua questo E qua ti piazzo Qua questo Qua sento che hanno Twitch Maledetti Qua devo riparare i muri Io non è che posso non riparare i muri Però almeno abbiamo scoperto Piano Twitch 5 e 4 5 e 4 Ricarica Perchè farlo io Quando il troppo Non lo fa meglio Le mie bellezze sono pronti Ok Avanti Passa Maledetto Mi avrà visto? Vai, entra Che ti stordisco Cavolo È là No Io posso anche uscire Ah no Si interrompono Ho sentito qualcosa Qua Porcellino Sei in una zona controllata dal nemico Lasciala subito La tua posizione è stata compromessa Bravi Cioè non ho fatto nulla Volevo più che altro Uccidere il nemico Con il drone Però non veniva Questo Che round Veramente triste Ed eccoci qua Nel quarto round Ok Anche questi qua Li vedo molto Pronti a fare un'azione kamikaze Non so voi Eh Cos'è sto lag Là c'è uno Occhio raga Pannaggia Sì però io raga Ve li sto individuando E voi che cavolo fate Cioè Ma dai l'ho ucciso Ah caveira da dietro Cavolo Dovevo mettere Lo sapevo Dovevo mettere la claymore Io ragazzi Eh però non ce la facevo Si ce la facevo Non lo so Io ho detto Metto la claymore Tra me e me Sempre chiaramente Metto la claymore Tra me e me Però dai Ci siamo aggiudicati Anche questo round E' andata bene Maledetto caveira Riguardiamoci la kill Patapam E questa volta Siamo in un punto Che cavolo fai Ciccio In un punto Abbastanza difficile Qua dobbiamo fare La rotation Io qua però voglio Già riparare Questo muro Qua Tu la non passo Qua Nemmeno Ok Muro rinforzato No rinforzare Tutto raga Io qui Che cavolo Faccio Vabbè La mia idea Era rinforzare Questa parte qua Perché ha meno porte No Rispetto a quell'altra Sperando che non passino Poi da quella Ma è meglio Piazzarlo qua Come telecamera Questa Va più che bene 5.4 Ottimo Ah lì c'è quella Ah no Non posso fare nulla Vedete Poi pian pianino Si rigenera Porca vacca Era il mio compagno Di squadra Cosa cavolo Facevala Questo Io ho visto Il drone Da questa Adesso Spiegatemi Che cavolo Ah ho visto Buck Da questa Ciao Ciao Perfetto L'ultimo nemico rimasto Impedite al nemico Di prendere Il connessione Un operatore alleato Rimasto Allora Cosa fai Così quasi No Ho finito E l'abbiamo Ucciso ragazzi Challenge Challenge fatta Con il mega drone Spettacolare E così Abbiamo vinto Partita Classificata 4 a 1 Purtroppo io ho fatto Un po' schifo 5 e 3 Vabbè ho fatto un po' schifo Beh quello 0 2 5 Almeno qualche kill L'abbiamo fatta E ho fatto anche la kill Con il drone Perché so che qualcuno di voi Mi Sicuro Chiedeva Una kill Una challenge Di quel tipo lì E quindi L'abbiamo già fatta Io ragazzi Vi saluto Vi ringrazio E ci vediamo Al prossimo video Ciao Grazie per la visione!